Grazie, sono molto onorata di questo premio, di essere questa sera in questo teatro meraviglioso, con questo pubblico, questa luna stupenda. Per me questa riconoscenza è magica, come questa serata, perché anche se ho un percorso artistico, diciamo un po' da nomade, l'Italia per me è tutto, è la mia colonna vertebrale e anche quando perdo la bussola penso all'Italia e sulla strada. Quindi grazie.